ehi questo è buonissimo eh passaggio no 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 uno no e lo sai che i denti non ho a proposito il tuo studio dentistico come sta andando ma va bene o va bene c'è stato un periodo di crisi ovviamente la crisi l'anno tutti l'hanno passato però ho messo un aiuto con me vai un socio un altro dentista no lui fabbrica torroni croccanti mocelle lui fabbrica e poi la società ma fung joo fung joo olivico no cholo moca vi dodo va bene